Era uscito in cerca di funghi con un gruppo di amici, ma poi ha perso l'orientamento e si è ritrovato in una zona critica. È riuscito però a chiedere aiuto e a comunicare per telefono, anche se non sapeva dare indicazioni precise sul luogo. Parliamo oggi fortunatamente di una disavventura finita bene. Le squadre del Soccorso Alpino, stazione di Valmasino della settima delegazione Valtellina-Valchiavenna, insieme con il SACF, Soccorso Alpino Guardia di Finanza, sono riusciti a capire dove potesse essere l'uomo e poco dopo lo hanno individuato. Il cercatore di funghi si trovava nella zona dell'Alpe Tagliata, vicino all'Alpe Granda, circa 1500 metri di quota, sul versante della Valmasino, disorientato ma illeso. È stato raggiunto e portato in salvo. Una disavventura lieto fine, dunque, che tuttavia non può non far andare con la mente alle tante troppe vittime delle uscite, in particolare quelle per funghi, luoghi impervi, dove spesso anche la perfetta conoscenza dei luoghi non mette al riparo da cadute, anche fatali. Se vi trovate in una situazione simile a quella dell'uomo salvato oggi, sottolineano dal SASL, il Soccorso Alpino Speleologico Lombardo, ricordate che è molto importante restare fermi, una volta che avete dato l'allarme, per fare in modo che i soccorritori possano capire dove siete e raggiungervi. In questi giorni la stazione ha compiuto altri interventi non gravi. I tecnici sono stati chiamati per un malore in un rifugio e anche in un alpeggio, per una distorsione sul sentiero o per altre persone con qualche difficoltà di movimento. Tutti risolti anche grazie all'impiego dell'elisoccorso di Areo, l'Agenzia regionale Emergenza Urgenza, ma anche per la costante disponibilità dei nostri soccorritori.